Il menù artigiani Il menù ha il compito di offrire tutta la qualità e la genuinità dei prodotti nostrani, trasformati, come vuole la tradizione, dalle abili mani artigiane. E per il primo assaggio è arrivato un personaggio d'eccezione, il gastronauta del Sole 24 Ore Davide Paolini. Dai piselli di Lumignano al radicchio di Asiliano, dagli asparagi di Bassano alla composta di Montorso. La nostra provincia propone pietanze ed alimenti unici, gustosi e genuini, che la nostra tradizione ha saputo sapientemente portare in tavola. Una tradizione che i ristoratori dell'Asso Artigiani hanno mantenuto e che oggi vogliono valorizzare con il menù Artù. Un menù che si può già trovare in una trentina di ristoranti della nostra provincia nella versione primavera, pieno di delizie e di sorprese. Decisamente una buona idea per la gita fuori porta di Pasqua e Pasquetta che si avvicinano. L'avvio dell'iniziativa è stato dato durante la settimana dell'artigianato, con un convegno nel quale i promotori, Asso Artigiani, Coldiretti, il Consorzio del Vino Durello e l'ente bilaterale dell'artigianato veneto, EBAV, hanno messo attorno ad un tavolo, per parlare della valorizzazione del territorio attraverso il patrimonio alimentare vicentino, il giornalista Antonio Di Lorenzo del Giornale di Vicenza, l'esperto di tradizioni vicentine Galliano Rosset e il giornalista gastronomo Davide Paolini. Al nostro microfono il noto gastronauta. Allora, l'importanza della gastronomia e della cucina locale? Beh, è importantissima perché è innanzitutto un documento storico del territorio e quindi tramanda la cultura materiale. E poi sempre più è diventato un medium per attirare viaggiatori e non turisti, quindi che sono la parte migliore, secondo me, del turismo. E credo quindi che il cibo deve essere sempre più considerato qualcosa di culturale con degli aspetti anche economici molto importanti. Ecco, questa iniziativa che legano, diciamo così, l'impresa artigiana, il territorio e la cucina, possono avere dei risultati? Cosa ne pensa? Beh, sicuramente perché legare l'artigianato del cibo con la cucina, col territorio, io credo che sia un valore importante per questo paese, nel senso che il territorio è uno dei valori più importanti, io credo, anche rispetto al mondo. Quindi diciamo che queste tre cose che lei ha citato sono in effetti tre valori del territorio. Legarli assieme, saperli comunicare, saperli diffondere, sicuramente è un valore incredibile, sia dal punto di vista, se vogliamo, della cultura materiale, sia dal punto di vista economico. La ripresa economica, si sta parlando sempre di crisi, può passare anche attraverso queste forme, anche di ritorno al territorio? Beh, guardi, io arrivo proprio da una manifestazione organizzata con Pitti a Firenze, che si chiama Taste, che oggi è il più bel evento dell'artigianato del cibo che ci sia in Italia, perché è selezionato. Ebbene, abbiamo fatto un'intervista sui 200 artigiani presenti e abbiamo notato che la crisi probabilmente si sente esternamente, ma dal punto di vista loro, del loro prodotto, non lo sentono. Sicuramente è un prodotto di nicchia, un prodotto, diciamo, non in grande quantità, però la crisi non la sentono. Sergio Boschetto, ristoratore iscritto all'Asso Artigiani, allora siete qui per presentare il menu Artù. Di cosa si tratta? È un'iniziativa che vede coinvolti 30 ristoranti e quindi è un'iniziativa di un certo peso che l'Associazione Artigiani sta spendendo in marketing su questo aspetto. E' un menu che però lascia lo spazio e la fantasia di chi lo interpreta e quindi non è un menu teleguidato. Ma nell'arco dell'anno andremo a pescare nei prodotti del territorio, ripeto, pescando nei sapori del palladio, nei prodotti a denominazione comunale, per costruire questo menu che si troverà quotidianamente nei nostri ristoranti.